Isolana Edilizia di Stefano Saltalamacchia Manutenzioni Ristrutturazioni Custodia a ville ed appartamenti Professionalità e serietà Tutto questo è... Isolana Edilizia di Stefano Saltalamacchia La tua ditta di fiducia Il rifugio dei peccatori Cucina casereccia Griglieria, vineria, bruschetteria, stuzzicheria Alla Madalena Info e prenotazioni 347-366-4638 Oppure 366-3146-855 Avete giustamente detto la vostra provenienza Io devo dire che sono pochi forse gli attori usciti dalla scuola di Proietti che non lavorano Perché devo dire che forse è stata la miglior scuola teatrale che ci sia in Italia E ancora, devo dire, è un grande esempio per tutti Che compiamo quest'anno con questo laboratorio di Proietti Che compie i suoi 30 anni 79-2009 Abbiamo festeggiato il trentesimo anniversario E faremo uno spettacolo con Proietti E tutti noi con Bregnano, Insinna, Reggiani, Laganà Tutti quanti insieme a fine maggio Sia a Civita Vecchia che al Sistia in Roma E un'altra cosa La formazione in questa scuola è stata talmente importante per noi Che sia io che Pino abbiamo delle scuole di recitazione Cioè è stato talmente importante quegli anni della formazione Aver imparato a stare sul palcoscenico In quel modo che non siamo riusciti a farne a meno E alla fine abbiamo Lui ha la sua scuola di... Scuola delle arti La scuola delle arti a Civita Vecchia E il cantiere teatrale in Roma Quindi siamo ormai dipendenti dalle scuole di teatro The Professional I professionisti dell'abbigliamento da lavoro Diciamo che comunque avete anche i vostri spazi televisivi Avete dei ruoli anche nelle fiction televisive Anche se diciamo Gli esordi sono più legati forse al varietà Ai vecchi varietà italiani Che purtroppo non vediamo più in tv Vero Paola? Ma non so Sì io sono un'attrice che viene dalla rivista E dal verità come le attrici di un tempo Questo vuol dire anche che ho un po' di anni Ma è vero sì Noi abbiamo cominciato con la televisione degli anni 80 Quando il varietà si faceva con le prove e con i copioni Due parole che adesso sono sconosciute In un paese di improvvisatori All'epoca insomma fare un varietà era una cosa piuttosto complessa E io e Paolo scrivevamo anche In questi varietà attore Amore mio con Proietti Avevamo scritto degli sketch per gli altri amici colleghi del laboratorio E che poi sono andati in onda naturalmente senza il nostro nome Ma noi eravamo anche autori di queste cose che si sono fatte Poi volevi dire cosa stiamo facendo Poi adesso lei farà uno spettacolo su di cui puoi parlare a lei Io vado in scena poi da fine gennaio con Ornella Muti Emilio Bonucci con una commedia nuova Si chiama L'Ebreo Con la regia di Enrico Magliamanna Molto interessante E poi mi vedete al cinema nel Scusa ma ti voglio sposare Quello con Raul Bova e Quattro Ciocche Ah ecco il dottor Ornella Muti Allora dille per cortesia di Tornare Bruna Che sta molto meglio E' bionda per questo ruolo No è bionda per la vita Per questo ruolo credo anche che ci sia un taglio d'epoca Perché anni 50 la commedia è in questo senso Volevo anche dire i nomi dei nostri colleghi attori Abbiamo la presenza di Carlo Molfese Che è un grande attore E anche un grandissimo produttore L'inventore del Teatro Tenda Abbiamo poi Lavinia Savignoni Che è la ragazza con cui ha una storia d'amore all'interno del testo E che ha fatto Nine E nel cast del film musical che sta uscendo adesso Nine Poi abbiamo Roberto Fazioli Che è un indiano d'America vero Preso proprio tirato fuori dalla terra E portato sul palco E poi c'è Federico Battilocchio Che invece è un amico Che è anche lui defunto Che mi appare e mi fa capire Quanto io mi sei comportato male nella vita Diciamo che il tuo personaggio è un po' come hanno detto i critici Tra Uli Iglesias e Vasco Rossi Ho detto io per scherzo Magari Diciamo un cantante un po' così per signore Un rock Un target un po' maturo Ecco Perché è un po' nostalgico Un po' Lando Fiorini del rock Ecco diciamo Questo spettacolo andrà avanti ancora per parecchie date giusto? Siete già Sardegna sì In Sardegna cominciamo oggi E siamo fino a domenica Facciamo oggi la Maddalena Ozieri Lanusei Arzachena E San Lorenzo San Lorenzo? Sì San Lorenzo? Mai sentito? Tu l'hai sentito? Infatti siamo dovuti ricorrere Sempre Olbia Provincia Ah Siamo dovuti ricorrere infatti a degli informatori speciali Oh ma esiste sì Non è che è uno scherzo no? No no Ti abbiamo visto poi ultimamente anche a distretto di polizia Amiche mie Sì Ho fatto un po' Anche un po' di fiction Si capita Ma col che dite si può far rinascere il bel varietà televisivo Spazzando via questa tv di oggi un po' No Secondo me no Quel varietà purtroppo è destinato a non tornare La televisione va tutta in un'altra direzione L'unica cosa Tutte le nostre speranze ormai sono riposte nel teatro Che è l'unica cosa che veramente non morirà mai E continuerà sempre a rinnovarsi Auspichiamo anzi che invece il teatro trovi sempre più spazio E orari meno notturni e più serali Perché abbia una giusta valorizzazione Va bene Allora noi invitiamo il nostro pubblico a seguire questo bellissimo spettacolo Ultima Chiamata Pino Quartullo Paola Tiziana Cruciani E naturalmente tutto il cast completo Che questa sera è al teatro Primo Longobardo La Maddalena Ma seguitelo anche nelle altre tappe Grazie per la Maddalena TV.it Grazie a voi Grazie a voi, ciao Grazie a voi